Buonasera, bentrovati a TGM Sport Friuli Venezia Giulia. Non è sufficiente al Brian Lignano, il successo per 1-0 al Guido Tegli di Lignano Sabbia d'Oro per continuare l'avventura in Coppa Italia di Lettanti. Ciriello colpisce in avvio di ripresa, ma la Solbiatese resiste e sfrutta appieno il risultato dell'andata. I Lombardi avevano vinto col punteggio di 2-0. Ascoltiamo mister Morassa al termine del match. È un peccato, perché nei 180 minuti credo onestamente non meritiamo di uscire, però il calcio è questo. Appoghiamo un po' gli episodi dell'andata, però devo solo fare i complimenti ai ragazzi. Sono stati bravi, c'è un mese in cui hanno giocato ogni tre giorni. Sono stati bravissimi, devo solo fare i complimenti. Sono stati molto bravi, credo. Comunque abbiamo portato a casa la vittoria, però non è bastato al passaggio del turno. Loro, la Solbiatese, sono una squadra molto forte e hanno meritato questo passaggio del turno. Noi sicuramente meritavamo di più, però alla fine la partita è stata anche equilibrata. Loro hanno fatto i due gol all'andata che sono avversi questo passaggio del turno, quindi complimenti anche a loro. Adesso ti chiedo una cosa fuori dalla partita di oggi. La prossima settimana comincia il torneo delle regioni, tu sei stato un protagonista. Come vedi l'Under 19 di quest'anno? Io gli faccio un grande in bocca al lupo, speriamo che vada bene, che facciano una bella esperienza e che si divertino. Si chiude purtroppo con una sconfitta il ciclo di amichevoli della rappresentativa regionale Under 19 in vista del torneo delle regioni che si svolgerà in Liguria. Finisce 4-2 a favore del River Fraibano, in rete per la squadra di Mister Giatti, il figlio d'arte Muranella e Giust. Ascoltiamo proprio le parole del tecnico al termine della partita. Come è andata quest'altra amichevole di prestigio contro il River d'Arcano Fraibano? Allora, intanto ringrazio Fraibano per questa possibilità. Abbiamo trovato la squadra che è in forma del campionato di eccellenza e quindi è stato un bel test. Anche se loro hanno fatto avvicendamenti, secondo tempo è stata partita vera perché hanno inserito tutti i big, però almeno una buona parte di gara e quindi è stato un test molto importante. Secondo me abbiamo commesso qualche piccolo errore difensivo, ma nel complesso dire che è stata un'altra tappa verso l'avvicinamento al Torneo delle Regioni e per certi versi ho visto anche degli aspetti positivi in crescita, anzi una crescita continua anche dopo Trieste. E adesso cosa farai nel poco tempo che manca la partenza per il torneo delle Regioni? Appena chiudo l'intervista con te devo pensare a fare i vinti convocati perché domani saranno selezionati e poi chiaramente avremo eventuali riserve nel caso in cui speriamo di non ci siano in fortuna eccetera. C'è un ultimo allenamento che dovrebbe essere fatto prossimo giovedì perché mercoledì era previsto ma ci sono dei recuperi e poi il venerdì e poi l'epoca di pranzo partiremo verso la Liguria. Parliamo invece adesso di ex Neroverdi, ex del Pordenone Calcio che sono in giro per l'Italia. In primis del direttore sportivo della Juve Stabbia Matteo Lovisa al quale è stato proposto il rinnovo di contratto. Servizio. La società sportiva Juve Stabbia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il direttore sportivo Matteo Lovisa fino al 30 giugno 2026. Lovisa, direttore sportivo giovane ma già di grande esperienza, dimostra grandi capacità e incarna la volontà di sviluppo del nostro club e per questo proseguirà il suo cammino con i nostri colori. Sottolinea il club giallo-blu nella nota ufficiale diramata ieri alla stampa. Un giusto premio per il suo operato in questo primo anno lontano dalla società dove aveva ricoperto il ruolo di direttore dell'area tecnica e che oggi lo vede nelle vesti di direttore sportivo della Juve Stabbia, capolista del girone C della Lega Pro con 9 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Benevento, e con una delle migliori difese dei campionati professionistici con soli 16 reti subite in 31 partite. Per Matteo, figlio primogenito di Mauro Lovisa, storico presidente del club di Via di Villanova di Sotto, nel suo curriculum il vanto di aver condotto i ramarri al massimo punto della loro storia sportiva con il sogno Serie A sfiorato nelle semifinali play-off e tre annate tra i cadetti, categoria che potrebbe prendersi proprio con le vespe giallo-blu Stabbiesi. Con lui, nella città delle terme, anche gli ex neroverdi Leonardo Candellone, Kevin Piscopo, Alessandro Larosa e Cristian Andreoni. Tanti altri ex ramarri sono in giro per l'Italia, ma solo per l'ex capitano Sasà Burrai la stagione può definirsi positiva, con il suo manto va primo nel girone A della Serie C. Con lui, nella città virgiliana, il portiere Festa è Mensà e Monachello. Non sorridono l'ex comandante Attilio Tesser, esonerato inspiegabilmente con la sua triestina, sorprendentemente terza in classifica, e mister Bruno Tedino, anche lui sollevato dall'incarico di tecnico del Trento, da un altro ex neroverde come il DS Zamuner. Mimmo Di Carlo, richiamato a Ferrara dopo essere stato sostituito da Leonardo Colucci, un'altra ex conoscenza in riva al Noncello, con il soldato Bassoli cerca di risollevare le sorti degli estensi dopo un non facile inizio di stagione nel girone B della terza serie. Diamo adesso invece una notizia che riguarda il volley, Dario Sanna sarà il direttore generale di Volley Prata almeno per altre due stagioni. La società di Via Volta di Prata di Pordenone e l'esperto dirigente hanno rinnovato la reciproca fiducia e saranno ancora assieme nelle stagioni 2024-2025-2026, con un'opzione già sul piatto per quanto riguarda quella 2026-2027. Parliamo adesso di un'eccellenza sportiva nostrana, ovvero della zoppolana Giada Rossi, che dopo l'oro conquistato la settimana scorsa a Lignano, ne ha conquistato un altro in terra iberica. Servizio. È proprio il caso di dire una ragazza d'oro, la campionessa del mondo, la zoppolana Giada Rossi, dopo l'oro conquistato la scorsa settimana a Lignano-Sabbiadoro, si conferma in Spagna al Costa Brava. Dopo un facile accesso alla finale, ancora una volta si trova a competere con la finlandese Tapola. La friulana, dopo aver sorfetto l'avversaria nella finale di Lignano-Sabbiadoro, parte fortissima e determinata per un veloce 11-1 nel primo parziale. La Scandinava nel secondo set va avanti 3-1 e poi la reazione dell'Azzurra fino ad andare avanti 4-3 e poi la parità sull'8-8 e poi sul finale 11-9. Terzo set con parziale pesante per la Pordenonese avanti 5-0, ma la nordica non ci sta e impatta su 6-6 fino a portarsi avanti fino al 10-8. Con 4 set point contro, la portacolori del gruppo sportivo della difesa reagisce e fa girare la partita a proprio favore andando a vincere 12-10. La trasferta iberica è servita a Giada a mantenere la vetta del racking mondiale che conferma la classe della friulana in vista dell'appuntamento di agosto nelle Olimpiadi di Parigi. I prossimi impegni agonistici saranno il 4, il 5 e il 6 aprile ai campionati italiani di K del Bosco a Reggio Emilia e poi maggio in Slovenia e luglio in Thailandia. Parliamo adesso di kata, una disciplina che riguarda il judo e le arti marziali perché si avvicina il quarantesimo trofeo Villanova. Ne guardiamo il servizio e abbiamo intercettato il dirigente storico della polisportiva Villanova, il maestro Dudu Muzzin. È iniziato il conto alla rovescia per un quarantesimo trofeo Villanova, storico evento organizzato dai dirigenti della polisportiva Villanova-Judo fin dai primi anni della sua vita sportiva, giunta al quarantatresimo anno. Sarà un'edizione che vuole battere ogni precedente record e con le gare che si svolgeranno sui tatami allestiti al palazzetto dello sport Palla Flora in via Peruzza 10 a Torre di Pordenone, sabato 23 e domenica 24 marzo, sotto la regia della polisportiva Villanova-Judo, con la chermesse che aprirà i battenti fin dal venerdì 22 e sarà riservata alle operazioni di accredito atleti e sorteggio tabelloni gara cui seguirà il seminario europeo rivolto ai giudici di gara che si concluderà con gli esami all'abilitazione ad arbitro internazionale. La manifestazione a livello internazionale di Judo-Katà sarà articolata in due prove la prima in scena sabato 23 di Eju Tournament Judo-Katà e inserita nel calendario Unione Europea Judo mentre la seconda, domenica 24 marzo, con il Grand Prix Italia inserito nel calendario nazionale della Federazione Filcam. Sempre domenica ci sarà l'assegnazione della prestigiosa Coppa Trofeo Villanova riservata alla categoria giovanissimi, ovvero atleti delle annate 2012-2013. Entrambe le prove costituiscono prova di qualificazione ai prossimi campionati europei e mondiali di Judo-Katà. Maestro Dudu qui al Palazen, al secolo Edoardo Muzzin fermo noi preparativi per il quarantesimo Trofeo Villanova una o due giorni quest'anno al Palaflora Dudu ci racconti un po' come vi state organizzando e cosa prevede la manifestazione? Allora, in realtà i giorni sono tre perché inizia più di due con un seminario per i giudici internazionali e quindi vengono a tutta Europa sia per arbitrare sia per prendere l'abitazione e l'arbitrazione. E quindi saranno ospiti dal pomeriggio fino alla serata al Palazen questo lunedì 22. Poi sabato 23 c'è la Coppa Europa Coppa Europa è uno dei puntamenti importanti per chi pratica Qatar ed è qualificazione dei campionati europei e mondiali anche per altre nazioni. Il giorno dopo c'è il Grand Prix Italia che anche questo per chi non partecipa alla Coppa Europa partecipa al Grand Prix e si qualifica sia per i campionati italiani, europei ed eventualmente mondiali. È un'edizione speciale perché è il quarantesimo quindi ci teniamo a fare bella figura avremo anche ospiti il sabato pomeriggio alle 15 c'è l'inaugurazione della trofea con le premiazioni della prima giornata ci sarà il coro della Drosin con 40 bambini e le premiazioni saranno anche onorate con i dancerini di Aviano che vanno appunto a premiare quindi è una cosa molto bella Palaflora si presta perché è una palestra veramente bella, nuova e grande e quindi 50-60 volontari sono già pronti ai blocchi in partenza per partire con questa ennesima Senti, l'anno scorso c'è il 360 coppie quest'anno si rischia di superarle mi sembra di aver capito Guarda, finora a iscrizione non sono ancora chiusa l'internazionale sono già 70 e sono arrivando a quali italiani quindi arriviamo a 150-160 coppie che è un record in assoluto perché normalmente sono 70-80-90 diciamo che anche dopo il Covid c'è stato un rilancio dell'attività quest'anno lanciamo anche una proposta è la prima edizione in Italia di un'attività particolare per i piccolissimi 2012-2013 che possono praticare catania Senti, per quanto riguarda invece gli atleti qui della Polisportiva chi saranno da prendere parte alla Kermess? Sì, allora abbiamo due coppie il sabato che piva Francesco con la Giada Casetta che faranno il catà meno il catà e la Giada Casetta praticherà lo stesso catà anche con Alice Bertossi perché loro in Italia si possono cambiare le coppie e partecipare e la domenica pomeriggio avremo altre 3-4 coppie di giovanissimi Anche per oggi è tutto grazie per essere stati in nostra compagnia TGM Sport torna domani sera dopo il telegiornale condotto dal collega Alessio Conforti non andate via perché eseguirà la partita della Coppa Italia di Lettanti che purtroppo ha visto la sconfitta subita dal Brian Lignano dalla Solbiatese una buona serata Grazie a tutti